Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 83esima puntata del podcast di Marcos Box, con il riassunto delle principali notizie della scorsa settimana. Apriamo con questa puntata parlando di Mooney, l'applicazione più amata e odiata da parte degli italiani, a seconda degli schiamenti. Sapete bene che Cosi Mooney è un'applicazione sviluppata dal team di Bending Spoon per conto del governo italiano che si occupa del contact tracing, quindi serve a monitorare i contatti di eventuali persone che sono entrate in contatto con contagiati da Covid, al fine di ricostruire la catena di contagi ed essere più efficienti dell'individuazione di focolari e quant'altro. È un'applicazione stupenda, il protocollo è stato sviluppato su base comune grazie all'API di Google e Apple, ci sono altre soluzioni simili praticamente in tutti quanti gli stati, è un'applicazione appunto fantastica a mio avviso, che potrebbe essere, anzi è uno strumento utilissimo per il tracciamento dei contatti e quindi per riuscire a contenere questa epidemia di coronavirus, se non fosse che gli italiani, diciamo così, non hanno presa di buon occhio questa applicazione e moltissime persone si rifiutano di stagare, perché le si vede la go privacy e quant'altro, cioè, poi è la stessa gente che magari mette le foto delle proprie chiappe su Facebook, Instagram e quant'altro, vabbè, comunque. Che cosa è successo? È successo adesso che, appunto, il codice sorgente dell'applicazione è passato nelle mani dei professionisti di Sogei e Pagopà, che d'ora in poi ne cureranno lo sviluppo e il mantenimento. Ovviamente sempre sotto la supervisione del commissario straordinario per emergenza, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Innovazione. L'unica paura che è sorta a tutti quanti gli utenti che, come me, hanno avuto modo di lavorare con i software sviluppati da Sogei, che è una società controllata dal Ministero delle Finanze, e è una società in-house che svolge servizi di consulenza informatica per la pubblica amministrazione, sanno bene che Sogei è spesso sinonimo di bug e quant'altro. Quindi speriamo che questa applicazione, che i muni non peggiori ulteriormente, anche se dovrebbe essere difficile rovinare, visto che la maggior parte del codice che fa funzionare l'applicazione viene curato direttamente da Apple e Google, quindi back-end, quindi alla fine non dovrebbero esserci tanti problemi. Speriamo, speriamo che comunque venga mantenuta correttamente e speriamo che gli italiani si convincano fino alla fine di installare e renderla utile. Passiamo adesso ai rilasci di questa settimana. Ascensio System ha annunciato il rilascio di Audio Office Desktop Editor 6.0, la nuova versione dell'edizione desktop della sua suite d'ufficio multipiattaforma gratuita e open source. Chi utilizza servizi come Nextcloud oppure Oncloud e quant'altro, conosce di sicuro questa suite d'ufficio perché è possibile integrarla all'interno di soluzioni cloud. Io stesso lo utilizzo con AllSync, quindi se avete un account su AllSync, la suite d'ufficio predefinita che vi ritroverete è OnlyOffice. Devo dire che è anche una suite d'ufficio particolarmente comoda da utilizzare, veloce, ha tre programmi in croce perché è soltanto fogli di calco, documenti e presentazioni, quindi giusto l'essenziale per l'ufficio. E devo dire che in variati casi mi sono trovato ad aprire file docx, quindi file generati dalle ultime versioni di Microsoft Office, e non ho avuto problemi di compatibilità, quindi di formattazione che si sminchia e quant'altro, problemi che invece si hanno se vado ad aprire gli stessi file con LibreOffice. Quindi fateci un pensierino, provatela, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa suite d'ufficio. Passiamo adesso ai browser web. Questa settimana c'è stato il rilascio di Firefox 82 per Windows, Mac OS e Linux. Con questa nuova versione Firefox offre una serie di miglioramenti nelle prestazioni, oltre che miglioramenti nelle funzionalità di picture in picture. I miglioramenti c'è da dire però delle prestazioni riguardo principalmente l'edizione Windows, che adesso offre miglioramenti nella decodifica hardware di video, e miglioramenti nei tempi di caricamento, l'apertura delle nuove schede, delle nuove finestre e quant'altro. Potete aggiornare fin da subito Firefox sui vostri sistemi operativi, se siete su una qualsiasi distribuzione Linux, e vi toccherà invece aspettare l'aggiornamento che arrivi all'interno dei repository della distro. Restando in ambito browser, questa settimana c'è stato il tanto atteso rilascio della versione per Linux di Microsoft Edge, il browser di casa Microsoft, che adesso, come ben sapete, è basato su Chromium. Tanto amato, tanto atteso da parte degli smanettoni, tanto odiato da parte degli utenti Linux, quelli più puristi. Microsoft l'aveva promesso, l'aveva annunciato il mese scorso, che a ottobre sarebbe stato il rilascio di questa prima versione, e ha mantenuto la promessa. Questa prima versione arriva soltanto però nel ramo dev, quindi non è il canale stabile, ma è comunque utilizzabile, quindi io da una prima analisi, dopo averci sbanettato un po', non ho visto bug di sorta, quindi sembra abbastanza stabile e maturo. D'altronde è basato su Chromium, quindi non c'è molto da dire, l'engine è quello, quindi cambia soltanto un po' l'aspetto, e tutte quante poi le funzionalità, i servizi e quant'altro. Questa prima edizione è disponibile in formato Debian e RPM, quindi se siete utenti Debian, Ubuntu, Offredora, OpenSUSE, potete scaricarvi rispettivamente il pacchetto Debian, il pacchetto RPM e Instagram sulla vostra distro. Gli utenti Arc Linux e Manjaro invece possono utilizzare l'apposito pacchetto su Auro, quindi se andate su Auro trovate appunto questa nuova versione di Microsoft Edge per Linux. Attualmente la sincronizzazione dell'account Microsoft non funziona, ma questa era una cosa risaputa, era stato precisato anche nell'annuncio il mese scorso, e quindi la sincronizzazione di preferiti, estensioni e password non è ancora funzionante, ma diamo tempo al tempo perché Microsoft ha promesso che questa funzionalità arriverà a breve. Ci sono comunque alcune funzionalità interessanti che sono già state implementate, la prima riguarda le raccolte, che è una delle funzionalità più pubblicizzate da parte di Microsoft, c'è una modalità di lettura immersiva, richiamabile con il tasto F9, e basta perché di fatto c'è soltanto questo per adesso. Se volete un'integrazione totale col sistema scordateva con questa versione, perché da quel che si può vedere questa prima versione, non offre il supporto ai temi GTK come Chrome, quindi Chrome si integra perfettamente con il sistema, sulle varie distribuzioni GTK centriche, e in questo caso non c'è ancora il supporto, ma avete soltanto la possibilità di scegliere tra il tema chiaro e il tema scuro, con quell'aspetto tipico del design, dell'interfaccia di Microsoft, quindi il design della Windows. È carino, non è vomitevole, quindi ci può stare. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo utilizzerete, se lo testerete, o se anche per voi è il diavolo sceso in terra. Restando in casa Windows, in un certo senso, è arrivato a sorpresa il porting della calcolatrice di Windows 10 su Linux. Lo scorso anno Microsoft aveva annunciato il rilascio del codice sorgente della calcolatrice di Windows 10 su GitHub con licenza MIT. Ora, grazie a community di uno platform, è arrivato il porting per Linux. La calcolatrice è stata pubblicata nello Snap Store, quindi può essere installata su tutte quante le distribuzioni che supportano il formato Snap. Fatemi sapere cosa ne pensate. Attualmente è comunque buggata, perché se andate ad utilizzare, ad esempio, nel mio caso non riesco a... cioè non funziona, penso che sia così per tutti, non funziona l'immissione dei numeri mediante tastierino numerico, e quindi dovete fare con il mouse a scrivere proprio 2, 5, e so cliccare con i cosini. Vabbè, è una prima versione, è un primo porting. Speriamo che vengono corretti tutti questi bug, perché è carino, perché non è soltanto una calcolatrice normale, ma offre anche un convertitore di volume, lunghezza, peso, masse, temperatura e quant'altro. Quindi è una calcolatrice completa. Poi, se siete... che odiate Microsoft, vi farà schifo a prescindere. Passiamo adesso ad un argomento totalmente differente. Questa settimana ho pubblicato un editoriale dal titolo su Coups Open Printing e PAPPL. Lo pronuncia l'italiano perché altrimenti venite sotto casa armati di dizionari di lingua inglese, se venite a prendermi a dizionariate in testa, quindi è meglio evitare di fare errore di pronuncio. Apro e chiudo parentesi. Perché ho fatto questo editoriale? Perché ho fatto questo articolo? Perché, beh, nel corso degli ultimi mesi, moltissimi utenti si sono interrogati sul futuro di Coups, il Common Unix Printing System, che è praticamente lo spure di stampa modulare che viene utilizzato dai sistemi operativi Unix e che viene utilizzato attualmente dai sistemi operativi Apple e GNU Linux. Quindi se noi stampiamo su GNU Linux, lo dombiamo anche, lo dombiamo soprattutto a Coups. E che cosa sta succedendo a questo gruppo di Coups? Perché ho fatto questo editoriale? Perché gli utenti un po' più, diciamo così, più curiosi, di sicuro sapranno che lo scorso dicembre 2019 il principale sviluppatore di Coups, nonché il suo creatore, ha abbandonato Apple e quindi non sviluppa più il codice di Coups. Da allora, nel corso di questi ultimi mesi, ha ricevuto praticamente soltanto un commit, il repositorio di Coups. Questo è in netto contrasto con quanto accadeva in passato, dove grazie ai contributi di Michael Sweet, il principale sviluppatore di Coups e il suo creatore, c'era una media di circa 350 commit all'anno. Bene, in questo articolo faccio un po' di chiarezza, vi parlo un po' di Coups, vi parlo di qual cosa sarà il successo, vi parlo di dove è andato a finire lo sviluppatore di Coups e vi parlo anche del nuovo framework Printer Application Framework PAPPB, quel coso lì che vi dicevo prima. Andate a approfondire tutto sulle pagine di Marcosbox. Ultima notizia, ma la sono lasciata per utile perché è molto importante. Sabato 24 e domenica 25 ottobre si svolgerà il Linux Day 2020, la ventesima edizione della principale manifestazione nazionale dedicata al Linux, al software libero e all'open source, ma anche a tutte quante libertà digitali. L'iniziativa è promossa dall'associazione Italian Linux Society con il patrocinio del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. Date le circostanze eccezionali dovute alla pandemia da coronavirus e tutti i problemi che il nostro Paese sta vivendo, la manifestazione quest'anno, che dal 2001 si svolge abitualmente su tutto il territorio italiano con eventi distribuiti praticamente in quasi ogni città, e si svolgerà quest'anno esclusivamente online, seguendo un programma unificato, articolato in sei sessioni climatiche e organizzato appunto, spalmato in due giornate. Su Marcosbox trovate il link con il programma che potete consultare e, insomma, vi raccomando di partecipare, di dedicare questi due giorni al nostro sistema operativo preferito. Bene, e con questa ultima notizia si conclude qui questa 83esima puntata del podcast di Marcosbox. Longa vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con una prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!